benvenuti a tutti in questo nuovo video andiamo a vedere come creare degli stickers personalizzati per whatsapp questo trucco funziona su tutti gli android e non necessita di root per prima cosa andiamo a scaricare l'applicazione dal link in descrizione cliccando sul bottone verde andiamo a installarla ecco che si sta installando l'icona la riconoscete perché ha questo disegno con un robot in android e lo sfondo verde andiamo ad aprirla e a consentirgli l'accesso ai contenuti multimediali una volta fatto questo andiamo a scaricare le nostre immagini png ad esempio io cerco spiderman punto png ok andiamo poi nella sezione immagini e qui andiamo a scaricarle scarichiamo tre giusto per testarle ed ecco la terza ok una volta fatto questo andiamo ad aprire la nostra applicazione ed eccole qua andiamo possiamo creare il nostro pacchetto o semplicemente lasciarle in questa cartella per aggiungere basta fare ad lui le invia whatsapp ecco è stato aggiunto a whatsapp se noi adesso andiamo a aprire whatsapp e andiamo a a guardarle eccole qua vedete eccole qua la persona che le riceve le vedrà tranquillamente senza problemi infatti vedete eccole qua questo è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un like e se avete suggerimenti volete qualche video particolare scrivetemelo nei commenti al prossimo video